Ciao a tutti i figli sono Francio, oggi siamo qui T'ho visto eh T'ho visto che stai mettendo dislike Cosa stai facendo? Cosa stai facendo? Lo so, io appena ho iniziato il video Te eri già pronto lì a mettere dislike Lo so, t'ho visto Che eri pronto lì Così subito appena ho scelto il video di dislike Volevo dedicare un video, questo video qua Ai miei haters Perché sono simbatici e fanno il tutto per Hai messo già dislike Ma te l'ho detto aspetta Non devi mettere subito dislike Devi prima capire il video Eh, eh, te l'ho detto io Aspetta un attimo, non metterlo subito Dislike Vabbè comunque, allora, non so se vedete qua Allora, noi prendiamo una mela Una mela Abbiamo un altro soggetto oltre alla mela Abbiamo il cocco Noi prendiamo una forchetta E è semplice Allora, la mela sono io, va bene Questo qua è il mio braccio, anzi La mela sono... è il mio personaggio, diciamo Il braccio, ovvero la forchetta qua Sono i miei video Questi qua siete voi, hater I cocchi Siete duri come i cocchi La vostra testa è dura come i cocchi Prendiamo, allora La mela, vedete? E la mela Sono io Fai i video Guardate Vedete? Allora, questa è la mela Sono io Faccio i video E vi sto toccando Ma voi non reagite Piuttosto fate come il cocco Ragazzi Fate come il cocco Se non vi piacciono i miei video Fate come il cocco E come dovreste fare voi Cioè, tra l'altro Io non capisco Se io faccio un video Non vi piace Perché Venite a gruppi E mettermi dislike A cazzo Cioè Cosa c'è lì da mettere dislike? Vabbè ma comunque Non mi devo arrabbiare io per questo Perché insomma Devo anche capire che Non tutti possono essere come amico cocco Perché non fate come cocco? E questo è il mio rassunto Perché non fate come cocco? Che invece Perché Non fate che Mela Sono io Faccio i miei fottuti video E voi non fate un cazzo Cioè Voi fate così Guarda La prendete Fate così voi Amazonna ragazzi Tutto chiaro? Bene Spero di essere stato abbastanza comprensivo Con voi hater Vi dico Fate come il cocco Preferirei Adesso Oddio Io so già che in questo video qua Ci saranno Ehm Pfff Almeno Almeno Sapendo che nel vlog a Bologna Sono stati 10 dislike 9 Credo Adesso diventeranno 10 Uno in poi In questo video qua Ne avrò al minimo 8 E con voi Perché avete la testa dura Diobono Avete la testa dura Diobono Come merda Diobono Come uno schifo E non E un po' theee E un po' theee E un po' theee E un po' theee Grazie a tutti.